In tanti mi domandano come abbiamo cominciato a mettere insieme le reti, quali sono state le prime cose che abbiamo inventato e così via. L'abbiamo cominciato a fare in una maniera molto banale, ci serviva e ci sembravano assurde certe cose che non succedevano. Io nell'84 me ne stavo a Ginevra, al CERN, da bravo fisico e esperto di elaborazione informatica, perché io sono un astrofisico, e non riuscivo a mandare i file e i messaggi al calcolatore di fianco, perché io c'avevo un Vax e quello era un IBM. L'unica maniera con cui potevo parlare con quelli che stavano sull'IBM era telefonargli. Con cui abbiamo cominciato a domandarci perché non gli posso mandare un mail? Posso mandare il mail a Bologna all'altro Vax, ma quello che sta nella stanza di fianco no. Da bravi fisici ci siamo inventati un sistema per farlo. Abbiamo provato a far finta che il Vax era una stampante e un lentore di schede e sottoponeva un job all'IBM, il quale in realtà riceveva un comando e si autospediva un mail che in realtà era il mail che gli era arrivato dall'altra parte. Il risultato di tutto questo è Hans Nussbacher, che adesso è il capo della rete israeliana, dopo due giorni telefona al povero studentello che ero io, urlandogli di tutto perché gli avevo cresciato il mainframe. Motivo? Perché il modo con cui c'eravamo inventati il job per fare in modo che il mail venisse riconosciuto e spedito all'interno dell'IBM, usavo un paio di comandi che io ho detto cosa volete che sia se metto minore asterisco maggiore per farglielo riconoscere, era il comando di reset del job controller. Quindi si fermava il job controller e quindi si fermava tutta la produzione del mainframe del centro di calcolo. Dopodiché abbiamo pensato che forse era il caso di studiare come fare e ci siamo accorti che non l'aveva studiato nessuno, nessuno ce l'aveva pensato, quindi bisognava inventarselo. Da lì, da persone che facevano elaborazione d'immagine, abbiamo cominciato a pensare come faccio a fare un sistema che non cresce il mainframe del centro di calcolo del CERN e faccia arrivare la posta tra due sistemi diversi. Ci abbiamo pensato un po' anche perché ho scoperto subito che non ero solo io a avere questo strano problema, ce l'avevano tutti là dentro. Poi ho scoperto che gli inglesi guidano a sinistra, quindi si erano inventati un sistema di posta ancora diverso, il grey book che facevano soltanto loro in casa, ho scoperto che c'era qualcuno che aveva inventato UCP e mandava le mail in quell'altro modo, insomma ognuno parlava il dialetto che gli pareva e piaceva e nessuno funzionava. Ho chiamato altri tre studenti programmatori che c'erano là, ci siamo messi d'accordo e in un anno ci siamo inventati quello che poi è stato chiamato il primo CERN mail gateway che funzionava solo sulla rete locale. L'abbiamo più o meno standardizzato e in quel modo abbiamo cominciato a poter mandare le mail all'interno del CERN tra calcolatori diversi. Non ce ne importava nulla di parlare con gli altri perché così come l'HTTP è stato inventato per poter leggere i manuali più facilmente, il nostro serviva per parlarci tra di noi dentro la LAN del CERN, quindi dentro un paio di chilometri quadrati e niente di più. Quando poi, dopo aver fatto un altro tipo di telecomunicazioni militare, come si usava in quegli anni, sono tornato in Italia e ho detto beh in Italia siamo uguali, non siamo capaci di mandarci le mail tra quelli che usano Decnet sull'INFN, quelli di Pisa che usano i primi prototipi di TCP e IP, le università con il Cineca che usano i mainframe VM eccetera eccetera, proviamo a fare la stessa cosa e per fare la stessa cosa c'era un altro paio di persone illuminate che giravano allora per le reti, un certo signor Silvano Gai nel Politecnico di Torino che scriveva libri sul TCP e IP per spiegare agli studenti come si usa questo nuovo protocollo, abbiamo deciso beh chiamiamoli tutti compresi i primi commerciali appena nati che cercavano di fare servizio per le industrie e così via e li abbiamo chiamati tutti al Politecnico di Torino in una giornata bollente di luglio del 1987 che io mi ricordo gli ho reso ancora più bollente perché la mia lezione seminario proposta è durata otto ore e mezza, ho cominciato alle otto di mattina alle quattro del pomeriggio ho messo la slide conclusioni e adesso cosa facciamo? Abbiamo finito alle dieci quella sera perché dopo le mie conclusioni tutti si sono messi a discutere abbiamo deciso di creare il gruppo che si chiamava Mail Ita, come far funzionare la posta elettronica in Italia, fare in modo che chiunque riuscisse a spedire un mail a tutti gli altri. In quell'occasione io avevo già un po' di software che funzionava di cui uno dei pezzi che era l'interfaccia dell'utente si chiamava Gmail che stava per Generic Mail, non era Google Mail perché Google non era ancora neanche nella alba dell'anticamera del cervello dei suoi inventori e presentai una serie di slide in cui c'era questo oggetto che era Gmail che era capace di spedire le mail a chiunque altro esistesse nel mondo in quel momento per riceverle. Notare che le spediva soltanto, non era capace di riceverle, ma era già più che sufficiente, il scopo era farle arrivare dall'altra parte. Arrivavano, cominciamo a fare un po' di lavoro di standardizzazione e il tutto funzionava molto bene perché da Mail Ita poi venne fuori un altro gruppo che si occupava della standardizzazione di reti in Italia, venne fuori quello che si standardizzava i domini, Ita.p.e., venne fuori l'autorità per regolamentare i nomi a domini in Italia, venne fuori il registro italiano e così via e dopodiché è diventata storia. A quel punto venne anche a finire quello che era chiamata la guerra dei protocolli, è meglio Decinet, è meglio IP, è meglio SNA, è meglio X25 e così via, lo ha deciso il mercato in senso lato che cosa era meglio? Era meglio il TCP e IP perché funzionava meglio alla fine rispetto agli altri sul mercato generale e quindi i Mail Gateway ce li siamo dimenticati, li abbiamo messi nel cassetto, anche perché all'inizio degli anni 90 abbiamo fatto un progetto europeo che era Cosign S2.2 per standardizzare i Mail Gateway e farli funzionare a livello mondiale, ci siamo riusciti, ha funzionato, costava un sacco di soldi perché ci volevano un sacco di risorse per far funzionare i Gateway in tutto il mondo, ma alla fine del 96-97 era abbastanza chiaro che il modo con cui proseguire era SMTP e quindi il Mail di Internet che finalmente era riuscito a mandare i messaggi multimediali, ricordiamoci che prima solo alcuni servizi riuscivano a mandare gli attachment, cosa normale, da adesso vi attacco il video e ve lo mando, ci riusciva solo il 400 che era una bestia quasi ingestibile, costosissima, con il Mail normale mandavate messaggi scritti in ASCII, scrivere in italiano era impossibile, io continuo a avere il difetto che scrivo E uguale E apostrofo, mentre tutti mi urlano guarda che devi scrivere E con l'accento, ma perché non c'era l'E con l'accento, non si poteva scrivere in un Mail con l'accento e così via. Da questo poi siamo passati ad altro, siamo passati a Internet e così via. Una delle cose che avevo già ricordato un po' di tempo fa quando abbiamo scritto un libro sulle origini del networking era che il primo Internet vero e proprio è stato l'Internet del mail, perché è stato il primo modo in cui tutte le reti riuscivano a parlarsi tra di loro. Poi è venuto l'Internet del file transfer, si riusciva a passare i file da una rete all'altra e poi è venuto l'Internet vero in cui tutti usavano anche il protocollo di rete TCPIP, uguale per tutti quanti. Ma è nato così. Io mi ricordo un Mail che è appunto riportato all'interno di questo libro pubblicato qualche anno fa, in cui il mio corrispondente che se ne stava in Svezia, a cui ero finalmente riuscito a far arrivare un Mail dopo molti, molti tentativi, mi rispondeva con mezza pagina di possibili indirizzi con cui raggiungerlo. Mi diceva il mio indirizzo ad Ecnet è questo, quello Internet è questo, quello UCP è questo e se vuoi anche mandarmelo con X25 è questo qua. Scegli. E non è possibile avere sette indirizzi di Mail per raggiungere una persona, ma quella era all'epoca. Un altro esempio che si può ricordare è che per esempio per cominciare a parlare con i primi fornitori, dovevamo parlare con Olivetti, che allora faceva dei computer, dei servizi molto seri. Olivetti era a Ivrea, io stavo a Trieste, l'unico modo con cui potevo mandare una Mail a Ivrea era passare per San José, dove c'era l'unico punto di contatto tra la rete dell'Olivetti e quella Internet con cui stavo adoperando io. E si passava di là e si tornava indietro. Quando avevo un problema telefonavo in California, perché era lui il gestore del gateway, che non funzionava. Cose di questo genere vi fanno capire che c'erano poche persone con un sacco di buona volontà che cercavano di far funzionare la rete, di ottenere il risultato, di far parlare tutti con tutti e a parte la rete di persone umane e di conoscenze che tenevano insieme il tutto, si stava anche creando un sistema che doveva scalare all'insù, doveva diventare automatico e le persone dovevano sparire, i gateway dovevano sparire e alla fine così è successo. È anche per questo che di quel nome Gmail inventato come Generic Mail nel 1900, probabilmente 1984, ma la prima traccia scritta che ne è rimasta è dell'87, ce ne siamo dimenticati tutti fino a che il signor Google ha detto di Google Mail, Gmail, usate tutti Gmail e così via. Io mentre stavo cercando una vecchia mappa della rete degli NFN degli anni 80, ho trovato un folder di slide scritte a mano, quelle del 1987, il pacco di 60 e passa diapositive che gli ho propinato per 8 ore e passa e dentro c'era la slide che parlava di Gmail. La prima cosa che mi è venuta in mente di fare, visto che c'era il trentennale, spedire la Vinsurf, che adesso è il vicepresidente di Google, dicendo vinto, ho trovato l'invenzione di Gmail, vedi se l'avessi registrato mi dovresti dare tanti soldi in questo momento, non l'ho registrato, resto povero, ma va bene così, tieni, usalo come documentazione se ti serve e infatti adesso la useranno perché per festeggiare il trentennale verrà presentata quella slide a Washington, all'ambasciata italiana. Qual è la filosofia di tutto questo? Che per fare le cose bisogna avere un problema da risolvere, presentare una soluzione a un problema che non c'è, non è il modo con cui nascono le reti e funziona la ricerca scientifica, tu hai un problema da affrontare, noi dovevamo riuscire a mandare il mail e l'abbiamo inventato praticamente all'internet del mail. Presentare un prodotto e poi cercare di venderlo, tra virgolette, all'utenza è quello che fa l'altra parte del mondo, quelli che sono i servizi commerciali, lo spot della team che adesso è imperversa, non hai bisogno di scegliere, ho scelto io per te, è l'altra versione della filosofia, io dico dimmi che problema hai e cerco di risolvertelo, alzi risolviamocelo da soli perché non ce lo risolverà nessuno se non ce lo facciamo da solo e questo è lo spirito di collaborazione che ancora adesso fa funzionare le reti della ricerca e ci fa andare avanti. Altri esempi di questo tipo ce ne sono in giro, gli studenti che si sono inventati il wiki per imparare a scriversi gli appunti e distribuire solo tra di loro, i musicisti che volevano suonare insieme si sono inventati l'ola, ovvio che non hanno fatto da soli, abbiamo dovuto aiutarli loro perché cosa ne sanno loro di come funziona una rete, come si fa ad andare veloci eccetera, per loro avevano il problema da risolvere e qualcuno glielo ha risolto. Altre persone che conosciamo, per esempio l'archeologo che vuole avere a disposizione tutto il database geografico mentre lui se ne sta là con la zappetta e il pennellino a scavare in mezzo al campetto nel basso Lazio, lui vuole avere tutto in tempo reale, anzi vorrebbe avere gli occhialini e che attraverso gli occhialini guarda il suo pezzo di campo e vede come secondo lui doveva essere visto perché ha le foto satellitari dall'alto che gli fanno vedere guarda lì c'è un muro, scava e cose di questo genere. Sono i problemi che dobbiamo affrontare e risolverli. La cosa importante è che un problema lo affronti e lo risolvi se le persone che lo vogliono risolvere collaborano tra di loro. Se partono dall'idea della posizione io so la soluzione e poi te la darò non si va da nessuna parte perché sicuramente qualcun altro inventerà una ruota migliore una ruota migliore che continua a succedere purtroppo. Io mi ricordo nei tre anni di duro mandato che ho fatto come responsabile della parte direttorato applicativo degli ETF dove si fanno gli standard, si dura tre anni perché dopo di che uno da fuori di testa bisogna che qualcun altro ci vada a sostituirlo. Ho visto la reinvenzione della ruota almeno una decina di volte. Perché la reinvenzione della ruota? Perché ognuno propone un nuovo tipo di protocollo, una nuova idea e non si preoccupa di andare a vedere se qualcun altro l'aveva già inventato e basta migliorarlo. Io ho avuto soprattutto da parte dei più giovani una serie di protocolli proposti eccetera eccetera che abbiamo detto ottimo, bene, bravo, non te lo pubblichiamo perché perché lo hanno già inventato dieci anni fa, vai a leggertelo, te lo sei letto la bibliografia prima? No, prima si legge, poi si cerca, Google l'hanno inventato per qualcosa? Si cerca e vedrai che l'hanno già inventato quindi fai questo e così via. Quindi la reinvenzione dell'acqua calda è un problema che abbiamo noi come umani e continueremo ad averlo, il problema è ottimizzarlo. Ce l'abbiamo addirittura quando facciamo i protocolli nuovi, quando facciamo gli standard dell'Internet Engineering, non dimentichiamoci di controllare che cosa hanno fatto gli altri prima che forse è il caso di non rifarlo. Quindi morale della favola, uno studiarsi il passato, le celebrazioni come quelle dei 30 anni di Internet non servono per dire quanto siamo bravi, quanto siamo belli eccetera eccetera, anche perché poi in realtà quelli che dicono quanto siamo bravi, quanto siamo belli normalmente sono quelli che non hanno fatto nulla, quelli che non c'erano, conoscete la barzelletta, chi non sa insegna e così via, siamo sempre lì, non cambia nulla e quelli che l'hanno fatto lo considerano talmente normale e poco importante che manco lo festeggiano, stanno già pensando a qualcos'altro che viene oltre. L'importante è reinventare da capo qualcosa che serva all'utente finale e reinventarlo confrontandosi con gli altri. Una frase che potrei usare per concludere, che ho utilizzato per descrivere che cos'è per esempio l'ITF, l'Internet Engineering Task Force, è un gruppo di persone ognuno delle quali ha assolutamente ragione perché tutti gli altri non capiscono nulla, però sono disposti a dire avevi ragione tu, dopo che sono riusciti a convincerlo che forse non era il caso. Io durante il Working Group ho sentito centinaia di volte dire si fa così, punto, perché questo l'ho deciso io e alla fine del Working Group la persona che ha detto si fa così, collaborava con quello che gli diceva non hai capito niente e si fa così e scrivevano assieme lo standard. Questo è il modo con cui si va avanti e con cui Internet è nata e continua a nascere. La collaborazione è quello che ti fa andare avanti e ti fa inventare cose nuove perché uno da solo può avere l'idea ma quando la confronta con gli altri trovi le soluzioni migliori perché nessuno ha la soluzione migliore di per sé. Il più grande ostacolo che c'è adesso al tipo di collaborazione è il voler proporre la soluzione pronta chiave in mano senza sentire l'utilizzatore che è quello che la soluzione la userà. L'utilizzatore spesso lo sa che cosa vuole, forse in una maniera assolutamente confusa, non è capace di spiegartelo, si inventerà le cose più strampalate e così via. Uno degli aneddoti che mi ricordo sempre dei tempi del CERN più di 30 anni fa che ci avevano raccontato era ogni tanto uscite fuori di qui e parlate anche con gli altri e io gli ho detto ma chi sono gli altri? Gli altri, quelli che stanno là fuori, il fruttivendolo, il cameriere eccetera eccetera e cosa ci vado a parlare a fare? Io faccio fisica delle particelle, mi guarda come se fossi un marziano, spiegagli cosa stai facendo perché potrebbe darti nel suo inconscio qualche idea nuova che a te il giorno dopo ti fa venire in mente una soluzione. Anche se lui non ha capito nulla di quello che gli stai parlando potrebbe dirti qualcosa che può essere utile. Il nostro utente ricercatore spesso lo dice qualcosa senza rendersene conto ma se non lo ascoltiamo a noi non viene in mente dove andare. L'innovazione vera è anche quella. Io ho visto applicazioni stupidissime che nessuno aveva mai inventato, l'ultima che ho visto è di un ragazzino di Bari che l'ha venduta ad Amazon. Come si trova il parcheggio? Nessuno ci aveva mai pensato che tutti i parcheggi online sanno quante sono le macchine che ci sono dentro e quante sono i posti libri eccetera eccetera e hanno un database per tenere conto di questo. Lui cosa ha fatto? Ha fatto un'app che fa la geolocalizzazione, sei qui, stai cercando parcheggio, faccio la query a tutti i parcheggi vicino e ti indico dove ci sono i posti liberi. Sono dieci righe di programmazione, non l'aveva fatto nessuno. La sta vendendo e ci sta facendo i soldi, c'ha 13 anni. Quindi sono queste le idee con cui l'innovazione diventa una start-up e diventa un qualche cosa che funziona. Non il project manager che riunisce attorno al tavolo tutto lo staff e dice adesso cosa gli vendiamo? Lo vendi? Forse, adesso. Forse lo vendi alla banca ma non lo vendi ai 10 milioni di utenti. Quindi quella è la differenza.